La presse, dal punto di vista familiare, ci dà la possibilità di incontrare persone che cercano la fede. Noi non ci siamo venuti a queste famiglie, non le vediamo, le vediamo in difficoltà, le vediamo soli, abbandonate e prese dai loro compiti. Quello che ci viene in mente, quando ci continuiamo per capire un po' come la situazione, è vedere che siamo noi ancora parrocchi, chiese, gruppi, a paventare ancora il discorso sulle famiglie. Abbiamo ancora molti problemi a superare e queste cose, io penso che bisogna curarle di più o meno, perché sento, noi delle famiglie che vengono in chiesa, il gruppo, gli amici della parrocchia, e facciamo soprattutto un discorso a volte di famiglie, che quando vengono in chiesa, famiglie...